tanto sei stato morso da uno zombie Vinci mi fa male, mi fa male ok, oh no c'è uno zombie in casa nostra e da quella parte attenzione Vinci, attenzione oh no, no no, si sta avvicinando, si sta avvicinando ho fame, fame cosa dici? Vinci! cliccate qui sotto e guardate il video completo